Nel video precedente ci siamo occupati della gravità in un sistema a molti corpi e ci siamo resi conto che è decisamente più complicato del caso in cui abbiamo testato le tre leggi di Keplero, cioè un caso in cui è presente un corpo massiccio centrale, la stella del sistema attorno al quale orbitano corpi più leggeri, i pianeti, che nella nostra simulazione non interagivano tra di loro. Ecco, ho pensato che potesse essere interessante verificare quali sistemi extrasolari era possibile ricavare mediante questa particolare simulazione, cioè eseguiremo in questa simulazione una serie di test partendo da situazioni casuali e vedremo quali tipi di sistemi diversi dal nostro vengono generati. Dato che le situazioni sono casuali, spesso, iniziali sono casuali, spesso otterremo delle situazioni che degenerano rapidamente in pochi corpi che orbitano gli uni attorno agli altri. Una situazione poco interessante ed è molto comune ottenere tre corpi che interagiscono variamente se non si riducono addirittura a due. Ecco, quindi in questa simulazione ho pensato di verificare che cosa succede quando rimangono almeno quattro corpi in moto. Se questo sistema si riduce a tre corpi praticamente ricominceremo la simulazione da capo e in questo modo potremo verificare varie situazioni, visualizzare varie situazioni interessanti. La simulazione ricomincerà da capo in modo automatico e per riconoscere i sistemi stabili sarà sufficiente aspettare abbastanza tempo che il sistema evolva e non si resetti entro breve. E quindi il sistema può automaticamente individuare quali sono i sistemi interessanti, quelli che in qualche modo hanno raggiunto una loro stabilità pur contenendo vari corpi che interagiscono. Inizieremo ad analizzare queste situazioni partendo da una situazione con molti corpi, uno massiccio da 100 unità di massa arbitrarie, uno un po' più piccolo da 75 unità, poi ci sarà un corpo con 10 unità, una serie da 2 e una lunga serie da 1. Attendendo abbastanza tempo vediamo quello che succede. Ecco vi mostrerò nel video solo gli esiti più interessanti. Ecco questi corpi sono i corpi che sono i corpi che hanno traiettorie diciamo quasi commetarie o meglio uno dei due corpi che ha traccia blu segue una traiettoria molto schiacciata. Queste orbite in ogni caso si stanno intersecando e di conseguenza non è sicuramente una situazione stabile. Prima o poi, visti i diversi periodi, entreranno in collisione e in effetti ecco che il corpo commetario della traccia blu è entrato in collisione con uno dei pianeti, chiamiamoli così, di traccia rossa e ha formato quest'orbita ristretta intorno alla stella. Puliamo le traiettorie per vedere meglio. Ecco queste due traiettorie rosse che si intersecano e quindi torneranno anche queste probabilmente a interagire e potrebbero interagire in modo distruttivo facendo precipitare un unico corpo ottenuto dalla fusione dei due pianeti nell'urto completamente anelastico verso la stella. Il corpo verde adesso sta seguendo una traiettoria ellittica e sta tornando anche il corpo blu dalla traiettoria ellittica ancora più ampia. Ecco vedremo tra poco c'è stato quasi un contatto, il corpo verde ora si è avvicinato molto a una traiettoria rossa e attendendo ancora vedremo che cosa può succedere se raggiungeranno stabilità o diventerà il sistema un'unica stella. Ecco è successa la catastrofe e i due corpi dalla traccia rossa si sono incontrati e dato che si orbitavano in versi opposti hanno perso quella loro velocità che li permetteva di orbitare e sono precipitati sulla stella. Essendo scesi al di sotto di quattro corpi nella simulazione la simulazione è ricominciata con una nuova situazione. Ripetendo più volte queste simulazioni capita abbastanza spesso si sono formati due corpi massicci uno blu e uno rosso che stanno orbitando al centro di questo quadrato di spazio. Può essere questo un sistema binario di stelle e attorno alla stella blu in questo caso si è sta orbitando un pianeta un pianeta che passa molto vicino alla stella blu ma non collide ancora con questa quindi è un diciamo un sistema binario in cui è comparso anche un pianeta e ci devono essere da qualche parte nella simulazione altri corpi che stanno orbitando a grande distanza fuori dalla visuale perché noi ne vediamo solo tre ma ce ne devono essere altri. Vediamo se dovessero tornare vediamo che cosa succede. Ecco è rientrato nella visuale un pianeta che è passato nelle vicinanze della stella blu e probabilmente in qualche modo è stato catturato dalla sua attrazione gravitazionale infatti si è fermato e adesso probabilmente sentendo la trazione della stella rossa verrà attratto da questa. Ecco proviamo a seguire qualche passaggio per vedere se succede qualcosa di interessante. Sarebbe interessante osservare la formazione di un'altra stella con un corredo di pianeti però questo pianeta rosso dopo essere stato attratto dalle due stelle ha ripreso ad allontanarsi e chissà quando tornerà. Ha formato questa figura a forma di cuore molto particolare. Vediamo se più tardi succede qualcos'altro altrimenti andiamo alla ricerca di altri sistemi interessanti. Nella simulazione precedente il quarto corpo si è perso nello spazio profondo ma eccone un'altra simile in cui sono rimasti i soliti corpi massicci uno rosso e uno blu in questo caso con addirittura due satelliti uno per uno. In realtà il satellite più stabile è probabilmente quello del corpo rosso perché l'altro si distanzia troppo dalla stella blu e finirà per essere probabilmente attratto dalla rossa ed eliminato. ci sono ancora alcuni corpi che hanno traiettorie molto ampie. Un corpo dalla traiettoria blu ha appena girato intorno alla stella blu e poi c'è questa traiettoria rossa molto ampia che ormai si sta perdendo nello spazio profondo. La situazione sembra abbastanza stabile per il momento e vedremo che cosa succederà nel seguito se queste due stelle continueranno a mantenere questa coppia di pianeti che gli orbita intorno. Non ho ancora detto una cosa importante in questa simulazione è possibile salvare la situazione, una particolare situazione interessante che viene visualizzata con i suoi dati qui sotto. Questo 5 per esempio vuol dire che è presente un... sono presenti nella simulazione 5 corpi ancora, il primo a massa 91 e poi ci sono tanti altri dati. In questo momento vediamo che intorno al corpo rosso si erano quasi fermati due pianeti ma uno poi ha sentito l'influenza del primo e si è allontanato. Proviamo a pulire per vedere meglio cosa sta per succedere. Ecco e una volta che questi dati sono stati salvati possono essere ripristinati mediante il pulsante carica che riprende la simulazione dove era stata lasciata. Ecco questi corpi continuano a orbitare intorno alla stella rossa e sicuramente prima o poi succederà qualcosa dispiacevole e spariranno tutte e due. Questa è la mia impressione viste parecchie simulazioni di questo tipo in azione. I corpi sono ancora 5 quindi oltre ai 4 che stiamo vedendo ce n'è un altro che sta vagando intorno nello spazio profondo, magari sta orbitando intorno a tutto questo sistema ma al di fuori della nostra visuale. Seguiamo ancora questo... ecco quest'altro passaggio... eh sono passati uno attraverso l'altro e diciamo che nel resto del video... ecco è stato quasi catturato dalla stella blu, il secondo pianeta, una situazione decisamente dinamica, può succedere di tutto. Dicevo, adesso è inutile nel resto del video andare a cercare altre situazioni perché comunque vi lascio come sempre sotto al video nella descrizione il link a questa simulazione e potete voi stessi provare a cercare situazioni interessanti come queste. Finora non ho mai visto due pianeti stabili intorno a una stella binaria come una coppia di stelle come questa. Ecco ora si stanno formando di nuovo due sistemi planetari differenti. È chiaro che quando la stella rossa e la stella blu si incroceranno nuovamente qualcosa succederà ai loro pianeti. Non sono di certo pianeti utilizzabili per una... per la vita, per lo sviluppo della vita perché si allontanano troppo e si avvicinano alle rispettive stelle. Comunque se dovesse succedere qualcosa vi aggiorno tra poco, altrimenti tra poco vi saluterò. Vediamo un po' che succede. Come non detto, uno dei pianeti è precipitato sulla stella rossa in questo punto. ne è rimasto solo uno e se ora proviamo a salvare la situazione, leggiamo qui nel contatore questo 4, c'è ancora nel nostro sistema un corpo molto lontano da questi che sta orbitando intorno. Quindi non... la simulazione non si è interrotta ma c'è semplicemente un corpo molto lontano che non vediamo. Si potrebbe zoomare la situazione per vedere com'è, dove è finito, però non è che sia una situazione particolarmente interessante. Sono di quelle situazioni a tre corpi come se ne possono vedere tante ed è possibile modificare questa simulazione in modo che non riparta quando si scende al di sotto di quattro corpi ma che riparta quando scende al di sotto di due corpi e quindi di situazioni così se ne vedono sicuramente tantissime. Proviamo a resettare per vedere una nuova partenza, ad esempio ecco questa. Ci sono tutti questi piccoli corpi che cominciano a orbitare, a precipitare sulle due stelle e a un certo punto si pulirà tutto quanto e rimarrà il sistema binario con probabilmente qualche pianeta. Già qualche luna si vede, o meglio qualche pianeta che orbita intorno alla stella si vede, un pianeta verde e un pianeta rosso. Puliamo per vederli meglio. Ecco sulla stella rossa ce ne sono addirittura due. Vediamo se tra qualche secolo ci sono ancora questi pianeti che orbitano. A tra poco ecco che la stella rossa sta tornando in vista e tra poco vedrete che intorno a questa stella rossa sta ancora orbitando un pianeta dalla traiettoria rossa. La stella blu ha sempre questo ecco che è passato adesso. La stella blu ha sempre questo pianeta rosso però tra poco vedrete che sparirà perché questo pianeta blu che è comparso nella traiettoria o qualche altro pianeta, adesso non ricordo esattamente perché ho ripetuto un salvataggio, influirà su questo pianeta e che cadrà sulla stella blu. Ecco vedete il pianeta dalla traccia blu che si sta insinuando tra le due stelle dopo di che ruoterà verso la sinistra ed ecco che è caduto sul pianeta blu ecco mentre c'è stato anche un passaggio, questo passaggio ad angolo quasi retto di un pianeta che arriva chissà da dove che passando accanto al pianeta che orbitava intorno alla stella rossa lo ha fatto deviare e lo ha strappato dalla sua orbita e ora la stella rossa è orfana del suo pianeta mentre la stella blu continua a mantenere il suo ecco quindi non era stato questo a sparire ma l'altro. bene sicuramente situazioni interessanti, chissà quante se ne possono sperimentare facendo altre prove però questo video ormai è durato anche troppo e quindi vi lascio alle vostre simulazioni e vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza e vi do appuntamento al prossimo video. grazie a tutti